Viva Maria! Viva la Madonna del Pilerio! Al grido di Viva Maria, la Madonna del Pilerio è uscita dal Duomo di Cosenza per un breve saluto alla città nella piazza antistante. Annullata la processione per il cattivo tempo, le celebrazioni hanno avuto luogo all'interno della cattedrale, con tutte le autorità presenti. Dal pulpito il monito del Vescovo all'accoglienza degli ultimi e la richiesta alle istituzioni di soprassedere allo sgombero dei migranti. Durante la celebrazione il prefetto ha offerto i fiori alla Madonna del Pilerio, così come il sindaco che ha poi offerto il Cero un segno di devozione di tutta la città. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il sindaco della città si fa interprete attraverso l'offerta del cielo.